buongiorno a tutti mi chiamo anna volt lavoro a milano all'osservatorio astronomico di brera dell'inaf l'istituto nazionale di astrofisica per il festival organizzato un incontro online con le canarie a tenerife infatti l'italia sta costruendo uno strumento all'avanguardia per migliorare la nostra comprensione dell'universo alle energie più alte l'innaf contribuisce a questa transizione di conoscenza con tecnologie e competenze di assoluto primo piano con la mia compagna di viaggio e joseph abessera del diasseghi istituto di astrofisica delle canarie vi spiegheremo come funzionano i telescopi cerico e vedremo nel dettaglio il luogo in cui sta sorgendo la schiera di nove telescopi last mini array è proprio quello che vedete alle mie spalle vi aspettiamo online a futuro remoto grazie a tutti